Scelgono la redazione di Canale 10, lavoratori dell'indotto dello stabilimento Veni di Gela, per rendere nota una lettera inviata direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Presidente scrivono, siamo a essere fatti per il modo in cui lo suo governo sottolinea che la crisi è alle spalle e che si stanno vivendo giorni di gloria. Noi lavoratori dell'indotto vogliamo ricordarle che grazie alle sue politiche industriali e del lavoro abbiamo perso tutto. L'indotto dell'ex raffineria è abbandonato. Le scriviamo questa lettera dopo aver trascorso 15 giorni al freddo, al vento, dinanzi agli ingressi dello stabilimento, manifestando il nostro malumore pacificamente. Ricordiamo benissimo, caro Presidente, la sua visita a Gela il 14 agosto del 2014. Qualche settimana prima l'amministratore delegato dell'Eni cambiò il destino della nostra città, scegliendo Rivorno a Gela. Come forse lei sa o lo ha dimenticato, lo Stato detiene ancora il 30% di Eni. Le sue politiche industriali e del lavoro in questi ultimi tre anni ci hanno ridotto all'osso, tanto ad aver perso il lavoro, la dignità, la salute, le case ed anche le famiglie. Grazie Presidente Renzi. Le ricordiamo che da buoni cittadini stiamo continuando a pagare le tasse finché possiamo, non saremo mai lavoratori di Slebi. Non abbiamo bisogno di politiche a sostegno della povertà, né tantomeno cassa integrazione o mobilità. Niente assistenzialismo. Vogliamo tornare a lavorare per ridare serenità alle nostre famiglie. Basta con le vostre contrapposizioni politiche perché a pagare sono sempre i più deboli. Basta con l'idea del libero mercato e della globalizzazione. Tutto ciò sta diventando un mercato degli schiavi. Adesso basta, basta, basta. Non ne possiamo più, Presidente. Intanto il Vescovo di Piazza Berina, Monsignore Rosario Gisana, sempre attento e vicino agli operai del diretto dell'indotto dello stabilimento della raffineria, domani alle 18 in Piazza San Francesco, celebrerà una messa all'aperto per non far perdere la speranza. La preoccupazione del prelato è che al dramma si possa aggiungere altro dramma, cioè quello di rivolgersi agli usurai e favorire ulteriormente la mafia, la malavita organizzata che è in agguato, approfittando dello stato di disfidrazione degli operai e delle loro famiglie. Alla celebrazione eucaristica parteciperanno, oltre agli operai e ai sindacati, la città tutta ed il clero di Gela, dove è possibile le chiese saranno chiuse per far partecipare tutti alla preghiera. Oggi, intanto, il Vescovo riunirà l'osservatorio socio-pastorale cittadino per fare il punto della situazione della vertenza Gela.